Questa è la regione di Expo e sarà la regione delle Olimpiadi, quindi credo che questo progetto rappresenti proprio lo spirito della regione e sia assolutamente in linea con le aspettative del piano nazionale, che vuole fare della rigenerazione un punto di forza e questo progetto oggettivamente è un progetto gigantesco che ha grandi potenzialità e che rappresenta appunto lo spirito di questa regione. È un progetto che si riferisce a una stecca che va da Milano fino a Malpensa, che coinvolge tante città, che coinvolge tante zone che vengono recuperate. Credo che sia un'ennesima dimostrazione di come la Lombardia voglia effettivamente andare in questa direzione, non a parole ma con i fatti.